E anche oggi ci siamo, andiamo a regalare un altro pass battaglia golosissimo a un vero fan che si guarda a tutti i video dall'inizio fino alla fine E' il fortunello di oggi del dottor Shadow Freeze, proprio lui Perciò grazie mille di seguirmi sempre e buon divertimento con questo nuovo pass battaglia E mi raccomando all'interno dei cozzoggetti il codice più fresco del centro Italia R4SCO E iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato Rimaniamo all'interno dei cozzoggetti perché ho visto queste motte spettacolari Il trenino ciuff ciuff, ovviamente andiamo subito a scioppare L'equivaggiamo, let's go, perché mi è venuta un'ottima idea Infatti oggi proveremo a stare tutta la partita sopra il nuovo trenino ciuff ciuff Ovviamente la challenge inizia dal momento che ci sbarazziamo di tutti questi playerini qui a pantano palpitante Che io sono sceso qui perché volevo subito iniziare questa challenge Eila signorino, uh è asciildato, buonanotte, buonanotte farfallina Ok, lo andiamo a perquisire, sento che... No, 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 scappa, scappa, scappami da chiuso Scappami da chiuso, ok, molto molto bene, molto molto bene Li sento, li sento, li sento, ci sono lui da cercare Eeeh, eccolo, eila, buonanotte signor Mando Questo che cosa combina, eila, buonanotte a lei, let's go Abbiamo pure livellato molto molto bene Oh no, eila, ti ho sentito, vieni qua furbacchione Buonanotte, oh mio dio, mega pompata sui denti E si va bene, non ti perquisisco nemmeno Buonanotte signorino, perché non abbiamo tempo da perdere Dobbiamo iniziare la nostra challenge, cioè è passato già tantissimo tempo Non posso ufficialmente iniziare questa challenge qui Ci sono troppi playerini avversari Anche se magari, se siamo fortunati, troviamo qualcuno che si unisce alla nostra challenge Pazza, vediamo, noi iniziamo così Sentiamo anche la musichetta di questo trenino Ma che trenino è, un vagone solo Ma amici miei, aspettate un attimo, perché prima di continuare Vi voglio far vedere le mie ultime scioppate pazze Infatti, ieri sono passato in eticola E sono andato a prendere questo album di Fortnite Con anche molti pacchetti Questo è un box contenente 18 pacchetti Guardate che spettacolo Lo andiamo a aprire insieme E andiamo, ora si sentirà un po' di casino Bomba incredibile, questo è l'album plastificato E ci sono dentro la confezione anche Uno, due, tre pacchettoni E ogni pacchetto ha otto carte Niente, niente male Ovviamente ci sono molte rarità Dalla più rara, alla comune, alla meno rara L'album di figurine viene 9,90 euro Mentre ogni singola bustina viene esattamente 2,99 euro Ma andiamo a aprire anche questo box Ok, ovviamente abbiamo Oh mio Dio Me l'avevano detto che questo era mega Ma non mi aspettavo di trovare così tante card Guardate quante No, le voglio, le voglio, le voglio tirar fuori tutte Le voglio assolutamente tirar fuori tutte Guardate quante ce ne abbiamo Ok, ok, ok Apriamo subito, non perdiamo tempo Io punto tutto su pesce secco E anche la bananita Oddio, non so se questo è un retro card Oh, è proprio una carta Ok, sono ufficialmente le carte Andiamo a fare un trick che ci siamo inventati ovviamente Vediamo chi abbiamo trovato La signorina QPTR numero 76 Questa chi diavolo è? Non lo so, è un anno skin al 50 Il signorino Gilda al 18 Questo è un piccone Ok, molto molto fresco Lo Sculptro per Natalizio Del tutto a sorpresa Poi abbiamo Neoversa Mi sembra si chiama questa skin Guardate quante pagine ho già realizzato Mi è tornata la voglia di spacchettare Ce ne sono davvero tantissime Ho beccato un'altra carta holofoil Che è questa qui E ovviamente anche il re dei ghiacci Ma io metterei anche il mio bello Sculptrooper Che non mi ricordo più dove è andata a finire Ma la cosa bella è che mi rimangono ancora tutti questi pacchettozzoli da aprire Non vedo l'ora, non vedo l'ora di riempire tutto questo album panini Che vi ricordo potete trovare in eticola a 9,90€ E ogni singola bustina costa esattamente 2,99€ Altrimenti fate come me che vi prendete un box con 18 pacchetti all'interno E ogni pacchetto come abbiamo visto ci sono ben 8 figurine Stupende In maniera del tutto inaspettata stiamo lasciando pantano palpitante Nessuno ci ha sparato, nessuno ci ha visto E' un po' surreale questa roba perché c'era davvero tanti C'erano davvero i tantissimi player Speriamo che non ci vengono a cercare Ora abbiamo un bel problemino Io quasi quasi no Tanto non abbiamo maz Il nostro vero problema e non abbiamo maz Anche perché se incontriamo qualcuno saranno cattivissimi Che ci vedono come dei bolletti Ma il nostro gelato dietro la schiena si sta sciogliendo totalmente Oh mio dio questa roba è mega galattica Abbiamo anche un mida con i tatuaggi quasi tutti oro Quasi tutti Mi sa ci manca l'ultima kill Potevamo farle in effetti E vediamo mida completamente ricoperto d'oro Occhio che ora mi sa tanto che dobbiamo prendere la zipline Se vinciamo così è allucinante Anche se arriamo in top 10 in effetti è allucinante Ehm come facciamo a prendere la zipline Vediamo se ci fa spingere tipo quadrato E oh le Oh 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 Ma che cos'è Oh mio dio Vediamo come Ma scendiamo sempre così Scendiamo sempre così Oh mio dio è surreale questa roba Non pensavo che in effetti è un emoto attraversamento Però non pensavo che attraversasse anche la zipline Let's go così Occhio che qui hanno aperto No no mi da risali sul trenino Aspettate Aspettate Oh 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 no no c'è qualcuno c'è qualcuno No signorino No signorino Non ci può killare Non ci può killare Stia tranquillo lei Ehi la garçon Garçon Salve garçon Garçon Ma chi ha sparato? Ma dove diavolo è? È sopra È sopra di noi? È tipo un Oh Oh Ma chi spara? Ma cosa? Mio dio che piedi pesanti ha questo Ma chi diavolo sta sparando? Ma dov'è? C'è Ha l'abilità Ma dov'è? Signori Cosa diavolo? Oh 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 Eccola Una fal È scildata È scildata Ma non ci Non ci guarda nemmeno Buttazzo Buttazzo Posso fare le mot Almeno che È il passo del Poglium Te la becchi tutta Queste mot Playerino Che ti abbiamo killato Ok Ritorniamo seri Oh c'è una gallina La dobbiamo assolutamente Killare Oh 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 262 Interface Ci dobbiamo sbrigare In realtà Ti prendi il polpo Pre Oh No 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 Hanno buildato Hanno buildato qua davanti Raga Non sento Ok L'ho visto L'ho visto Eh nel cespuglio Eh nel cespuglio Il viscido Ti prego c'è un altro a destra Che spara con un altro Oh no 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 Oh mio dio Quella lì è cecchinabilissima Sbrigati Milita Sbrigati Tizio nel cespuglio Ti prego non ci cecchinare Ti prego Tizio nel cespuglio Non ci cecchinare Ok Forse sei andato Sta arrivando anche la tempesta Ci dobbiamo assolutamente sbrigare Corri Milita Con questo treno Accelera In realtà dovrei anche essere un capotreno Quindi dovrei anche andare più veloce Però Sbrigati Milita Sbrigati 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 Stanno sparando qui sulla sinistra No 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 Milita Corri Arrivai sul trenino Ok Dovremmo andare lontani da questo fight Però Va bene dai Ci facciamo vedere Magari qualcuno si unisce al nostro trenino Eccolo lì il cacciatore Oh mio dio Com'è cecchinabile quel playerino Eppure mezzo fermo No 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 La tempesta no La tempesta no Ok C'è un altro qui davanti Che non si è accorto di noi Oh mio dio No Fermo 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 Stiamo facendo Vada 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 No io lo cecchino No rega scusate ma Lo devo Lo devo Ma scusate Ma non posso Non cecchinarlo Era qui davanti a noi Bello fresco Bello Tranquillo Aspettate Oh bello sto pompa Si si era Proprio tutta la robetta Che ci serviva Ci siamo rimessi in sella Dobbiamo assolutamente Continuare la nostra missione Qui però ci sono Gli scagnozzi Che non ci risparmi Proviamo a usare la jump con l'emote Assolutamente si Costretti Aspettate però Se ci sono gli scagnozzi È un bel problemino Vada mi dacchio Ma credo che non possiamo Prenderla Oh mio dio No perché È tipo sollevata Vediamo 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 No 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 Eh la devo prendere La devo prendere Dai 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 La devo prendere Ma per quale ragione Mi hanno messo Una jumpa sollevata È anche giusto però Occhio Stanno sparando Oppure mi stanno sparando Non lo so C'è un play Oh mio dio Una macchina Due macchine Oh no 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 Noi ce ne andiamo via Da qui noi vogliamo fare Il nostro La nostra challenge Belli tranquilli Belli puliti Quasi quasi In realtà mi farei questo Bell Vediamo se riusciamo A accendere un campfire Con la nostra emote Salve Sì accenditi Bello fresco Oh no 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 Oh no 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 Cucciolino Tu forse non hai capito Che noi siamo Oh no 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 Ci vedi ballerini Ma noi siamo molto molto cattivi Signorino Tu sei quasi Sei quasi Eh sì Sei quasi ufficiale Sei quasi ufficiale L'abbiamo fatto cadere Ci dobbiamo sbrigare In realtà ci dovremmo fare Un altro po' di campfire Ci facciamo anche questo shieldone Lo dobbiamo Oh no Lì c'è tipo Una jump Stanno sparando Ok fatemi vedere Ah ma era un bottazzolo Maledizione Pensavo fosse un playerino Cioè ma come gli avvenuto in mente A quel bottazzolo Di spararci a noi Ma mi sa Troppo troppo strana Questa roba però Signori miei Non me ne sono reso conto Siamo in top 6 Deve morire un playerino Arriamo direttamente ai top 5 Io ho profetizzato una top 10 Ma c'è andato meglio 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 Molto meglio Del previsto E ora però la situazione Si complica tantissimo A parte che il nostro gelato Ormai non esiste più Ma credo che più di così Non si possa sciogliere Questo gelatino Ora sicuramente Tutti quelli che ci vedono Ci vengono a pushare Non faranno più amicizia con noi Ne sono sicuro al 100% Lì ci dovrebbe essere Una bella jump Ma prima Ho visto che stanno Fightando Proprio dove ho messo il ping Quindi credo che siano ancora lì Noi non abbiamo tantesimi Mazz Li abbiamo sciagallati un po' A tutte le kill che abbiamo fatto Vediamo se davvero riusciamo a arrivare In top 5 Deve morire un playerino Speriamo che non siamo noi Io farei anche una bella azione Di camperaggio furioso In realtà Mi metterei qui Tanto siamo in safe Siamo al sicuro Aspettate No 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 Non posso Non posso camperarmela Con queste mott Il capotreno Mi dà un po' a camperare Dobbiamo andare Eccolo lì Uno Due Oh no 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 Mi ha visto Mi ha visto Al cecchino Ti prego non mi sparare Ti prego non mi sparare Ti prego Al cecchino mi spara Al cecchino mi spara Sono morto Ok L'amico Cosa fa quello Ok Uno all'ufo Ok C'è un amico Che è là davanti Quella Con le costruzioni E spero che non mi prenda Ci sono due Oh No no Oh no Ma è qui C'è C'è un tizio qua sotto E là Oh Non ci provare Ok 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 L'abbiamo killato Fermi 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 No 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 Non può andare così Non può andare così Signorino No 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 Sia calmo Sia calmo Sia calmo Ok ok È sceso Io devo fare una cosa Jump No no Maledizione Mi hanno coperto La mia jump Porca la miseriaccia Salve signorino Oh no C'è chi l'ha Ma chi l'ha No Mi ha coperto la jump Però top 3 Amici miei Mi raccomando All'interno Dei cattoggetti Il codice più fresco Del centro Italia R4 Iscrivetevi al canale Attivate la cappellina Le notifiche E troppo Un bel like Furbetto Se ancora non l'avete fatto Ora vi lascio Il video Bombadato Il vostro schermo Quindi mi raccomando Andatevi a vedere Ne ci vediamo prestissimo Con tante altre news E L'estra Ciao